ben giunti nobili viandanti oggi per me inizia una nuova tribolazione qui su europa universalis 4 con i nostri 9 mila uomini o meglio nove stronzi bloccati costantinopoli con 25 mila nemici di di fianco dopo che abbiamo soffiato la città sotto il naso degli ottomani in verità abbiamo conquistato metà del mondo ma l'esercito era spasso e un confronto diretto l'ho evitato molto volentieri ora mi ritrovo a pensare cosa potrà mai essere del nostro futuro perché sembra che le missioni siano semplicemente a rompere le palle addirittura il nuovo mondo mi vuole mandarci devo andare a nord america ma quando mai ma in che modo no no e mi ritrovo ancora in rosso per qualche motivo con rivolte pronte a spawnare a scassarmi le boas e quindi quale sarà il nostro futuro l'austria ha sotto di sé l'ungheria e la boemia e sembra stia attaccando burgundi noi abbiamo tre diplomatici quindi perché non andare là perché non andare là e parlamentare perché non so ho questa sensazione che la polonia è molto bella grande larga ma fino a quando non fa il salto e rimane con sto cazzo di military level 5 meglio la lituania a un certo punto non è che sia di grande utilizzo e invece i nostri cari veneziani sono lì per lì devo decidere a un certo punto se stare con austria o venezia e polonia non lo so però se l'austria riesce a mettere a segno un paio di robe fatte bene direi che possiamo meglio tenerci la strada aperta è vero che siamo anche amici di castile quindi tecnicamente potremmo avere una via preferenziale per il nuovo mondo in che modo voi direte non lo so ho detto una stronzata così ma tant'è vediamo anche se non credo vediamo di andare a raidare da qualche parte perché a me i soldi servono li devo li devo trovare intanto vedo con piacere eccoli qua vedo con piacere che i nemici hanno deciso di spostarsi da costantinopoli buon per me io non penso di poter ridare i cari ottomani per la cosa però tu qualsiasi trova ci sia o forse sì non lo so adesso facciamo passare tutto e gli ottomani l'hanno portato dove sono i 20k comunque li hanno massacrati quindi può stare allegri ecco che obiettivi avremo oggi senza perderci qua in una roba che ormai abbiamo visto e rivisto cioè il riding la mia felicità personale e aspettare che facciano cazzate i mammelucchi o tunisi e poi tentarla questo è l'obiettivo perché non so quanto riuscirò ad andare avanti su questo ramo qua perché mi sembrano tutti obiettivi abbastanza fine assistente di conquista quello punto non ci sono buff o roba varia questo qui delle navi mi sa che ormai è già bello che è finito quindi tant'è proveremo a aspettare il momento giusto per catturare l'occasione certo se ci capiterà di dover andare di nuovo contro gli ottomani sembra un po' una reminescenza di quando giocavo inizia però ovunque possibile qui nel mediterraneo arabo arabo non insultiamo i turchi e viceversa il mediterraneo nord africano asiatico noi cercheremo di metterci il becco mi era venuto un attacco di cuore ho detto no feca di nuovo l'incubo no poi ho visto non c'è niente di esagerato lì in mezzo anzi c'è gente che le ha prese sia dai mammelucchi che dagli ottomani mi parli dentro quindi noi volentieri volentieri scenderemo a fianco dei nostri amici polacchi esatto esatto cosa volevo dirvi ragazzi where is my float ah il riding sta andando da dio stiamo guadagnando 4 no mei goglioni non siete mica sbalorditi anche voi da questo strano evento allora togliamo subito il nostro parapicchio qua e lo mandiamo ad atene queste navi le mandiamo ad atene tutti ad atene unitevi dove è la flotta principale bella lì rivolta in arrivo ah nice la rivolta in arrivo posso sapere dove è costantinopoli ci sono già lì le truppe che non muoveranno noi ci muoveremo con l'esercito vedo che là però non ho già bloccato un po' tutto certo è che se volessi no non c'è molto faccio un giretto un attimino qua dentro con la mia navi andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello che possiamo fare qua assumi ho 35 ducati guardate cosa forte defense però prestigio prefisco però prestigio grazie i soldi non li do a nessuno no vado a fare il blocco anch'io anche se preferirei ah loro si trovano le palle preferirei veramente andare a bloccare ascoltate vado a bloccare io di qua perché c'hanno di là la flotta e vorrei mangiarmela ecco qua che adesso esce eh eh boy bravi prendetevi prendetevi la situazione eh niente sotto il sole se non che lintamente qua adesso arriveremo a quasi il cap dei soldati fatemi fatemi rammentare le navi le abbiamo appena superato il limite e sono un cretino però va bene pace per un po' andremo avanti sopra il limite e sti cazzi mi servono almeno 10 navi da trasporto per spostare sti poveri cristiani anche se ora al momento sono oltre i 10 perché piano piano dovremmo arrivare come dicevo al cap penso di stare a costruire 6 giusto? o una roba del genere comunque non so quanti tutti a costantinopoli lentamente senza andare giù di testa è quello che c'è e piano piano riusciamo ad arrivare qua tra l'altro ho appena notato che possiamo anche prendere un più 1 in diplomatic per poi arrivare a avere un fort defense più 25 poi un altro diplomatic ancora e tutto il resto però forse ci conviene visto che siamo a meno 10 prendere la tech e andare avanti quindi per adesso tanto quello che mi serviva era il diplomatico in più adesso ce l'abbiamo sto facendo curry favor con gli con con tutti forse sia con sì sì con gli austriaci con i cazzo di spagnoli per esempio mi hanno sentito fermo di fare l'attivo 2.3 power ah ok è così lento cioè questo è il problema la buona e ora ci arriva anche i tizi che vogliono situa il clero ci domanda cosa è che ci domanda? di convertire tessali ok questi ci domanda di costruire le baraccas in Malta questi ci domanda di avere una base production nel 2018 questo è difficile che adesso riesca a alzarlo nonostante quei bei ducati lì quindi piuttosto piuttosto farei le baraccas su Malta a un certo punto perché comunque ci servono quindi accetto quello della nobility e vado anche così così a spediglielo subito nel muso la cavolo era fra l'altro qua baraccas Maltas anche perché era l'unico decente quindi beccati beccati un po' di uomini in più che non ci fanno mai schifo voglio solo vedere la battaglia adesso ma se il meno 57 ci vorrà ancora un pochino quindi manco vediamo quella eccetera eccetera tra l'altro avendo già raggiunto il limite diciamo che questa cosa ci fa solo fare bella figura verso i polacchi o per il resto non è che ci guadagniamo proprio un bene amato cazzo siamo nel 94 e non sta succedendo assolutamente niente tunisi non possiamo attaccarla perché si è alleata con gli ottomani i mamme e lukhi sono comunque troppo forti non stanno facendo niente gli ottomani non stanno facendo niente e noi siamo qua belli a grattarci le palle quindi ho deciso di investire un sacco di soldi su attenzione ragazzi guardate abbiamo la via vicina di casa Fatima anche se qui ha un altro nome che c'è da più 20% di for defense spy network e production c'era magari altro ok però questo mi costava troppo e più volevo avere il team femminile di cazzo duro eccetera eccetera abbiamo preso anche una nuova io avevo preso questa qua non so neanche se ve l'ha fatta vedere meno 15% mi sembrava buona e poi c'è adesso questo qua più quando c'è la chiesa più tasse e meno arrest mi sembrava una roba figa più che altro gli altri mi sembrava una roba sfiga qua vedo dei combattimenti ma è la Polonia Georgia ah ok la Polonia si sta Bols la Polonia per quello che è comunque ho tolto da qui il forte probabilmente forse lo ricostruirò a Tessalonica per il semplice fatto che voglio stavo pensando quasi di puntare sulla difesa nel senso io ora sono 767 e sto andando per queste robe qua infatti abbiamo preso un pochino con l'altro tizio e il primo della situa qua in cima ho preso le qualities come seconda idea ma ero l'incerto per prendere defensive perché come sapete a un certo punto danno anche quest tipo difesa immagino eccolo qua manutenzione dei forti meno 10 e for defense più 20 cioè se noi stacchiamo difese sui forti tecnicamente mi sembra che posizionati bene diventiamo delle situazioni però poi ho detto andiamo un po' con le quality perché comunque migliora la situazione in generale quindi adesso sono un po' qui fermo ogni tanto raido qualcosa quando vedo che mi si accende la roba del poter raidare metto da parte un po' di soldi li rinvesto appena posso l'esercito è cappato la marina è oltre modo cappata finché i miei avversari non fanno qualche mossa del cazzo io non non saprei come comportarmi posso aggiungere ora che ci penso un rivale non mi ricordo più bisognava andare eccolo era qua posso aggiungere come rivale venezia ma cosa me ne fa ma perché non i cosi ma perché non tipo i tunisi che ogni tanto mi raida pura perché non posso comunque questo è non c'è non c'è molto purtroppo quindi si aspetta e si aspetta allora tecnicamente io tutta sta facendo qua l'ho già fatta c'è già stata una guerra con gli ottomani e io l'ho vinta il problema è che ho dovuto ricaricarla di fare tutta la puntata e buttare nel cesso un sacco di tempo perché vi chiederete perché i veneziani da nabbo che sono si sono intascati delle regioni che erano mie perché non mi era accorto ma chi lo va a pensare che i dannati volessero inchiappettarsi un pochino tutto non so neanche perché siamo amici a questo punto però tant'è è andata come è andata almeno ho fatto un po' di esperienza e ora col senno di poi mi riapproccio alla questione allora providenzialmente sto giro ho spostato tre cappa di truppe giusto per andare a taggare almeno due regioni Salonico e quell'altra che mi interessano lo svolgersi degli eventi sarà più o meno sempre il solito metteremo fuori in navi tenteremo il blocco e speriamo che Dio ce la mandi buona e ce l'aveva anche mandata buona Dio Santissimo ce l'aveva anche mandata buona che penare mezz'ora buttata nel C poi anzi partiamo anche più o meno subito però abbiamo a parte il problema veneziano abbiamo un altro problema ed è il problema della flotta ottomana che palesemente ci sfonda ve lo dico spoiler alert chissà come faccio a saperlo se no che la marina se ci uniamo alla marina veneziana invece li sfondiamo noi quindi bisogna avere anche il culo di riuscire a fare qualche battaglia fatta bene e vincerla oltre che avere poi della flotta che fa quello che deve fare quello che farò io è staccare no questo non è staccare vabbè staccare tre trasporti tanto per ma in verità possono andare anche non so se in verità assorbono colpi comunque tre trasporti facciamo tre trasporti da lasciare sempre fermo lì per per uscire e bloccare quando serve però dobbiamo mantenere la zona pulita e nel mentre dobbiamo riuscire a non farci seccare la flotta dagli ottomani fin dato che non arrivano inizia e in più andare a seccare la flotta i tunisini che tenteranno 100% di sbarcarmi a Malta il che è semi positivo ma negativo alla lunga se noi gli sfondiamo la flotta devono fare tutto il giro e questo è quindi siamo pronti i forti sono su gli ottomani manco ve lo dico sono andati a fare una gita campestre ad est quindi non sono qua davanti quindi è tutto per bene noi non chiameremo i polacchi anche se ora li vedete perché tecnicamente non dovrebbero dare il passaggio ai nostri nemici anche se e qui lo sviluppatore che ha pensato questa cosa della paradox alla mamma bagascia mi dispiace è un dato di fatto ha poi dato il passaggio alla Tunisia questo debosciato della Polonia quindi mi sono ritrovato anche gente dietro però devono fare un giro della Madonna quindi grazie a Dio almeno quello quindi chiamiamo solo Venezia e poi un giorno chiameremo anche i polacchi mettiamo che vogliamo Gallipoli corriamo subito a prendere quella che non è un gran problema e corriamo a prendere Salonico e con quell'altro singolo corriamo no perché sono cretino serio arca puttana niente questi vanno a Salonico tutti assieme e poi dopo ne stacco un altro da qua per andare a Gumulsin o come cavolo guardate 46 navi e fanno eh voi non puntete mica allora tu cagami fuori un'altra truppa paff 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 almeno abbiamo taggato tutto quello che ci interessa love i 200 tunisini ma noi servono quelle 31 passanave dei veneziani l'unica ragazzi è aspettare che questi si spostino e sperare che nel mentre non arrivino gli ottomani cosa che tecnicamente non dovrebbe accadere se Dio è con noi e spero che Dio sia con noi anche se non ci ne trevano sul fuoco a questo punto come speravo non sono stati veneziani a venire da noi ma sono andati gli ottomani e noi dietro siamo già partiti qui c'è lo sbarco in corso se tutto va come dovrebbe andare ora gli ottomani si dovrebbero ritirare perché vedono la nostra flotta arrivare da dietro per ora un paio di fucilate se le ritirano ok è andata come doveva andare noi corriamo ad affondare la flotta degli tunisini sperando di beccare ancora qualcosa ma è verità loro si sono dileguossi il che non è ottimo per noi perché se gliela affondavamo adesso non c'erano più tra le palle niente si torna quindi a casa Alessi perché comunque devo mantenere ah beh no è vero abbiamo le tre navi possiamo anche pensare di rimanere fuori per fare il giochino mi sbatto qua mi sbatto qua almeno intanto ripariamo noi riparano anche non so neanche se si un po' dobbiamo riparare riparano anche i veneziani che se loro hanno le navi da riparare mica muovono il culo per uscire da lì no no ma che ma che ma che ma che quel cazzo proprio quel cazzo andiamo avanti a fare quello che c'è da fare ora se vedo otto mani butto fuori le situe e andiamo avanti prendeteli oh cacane si sono ritirati che pezzi di merda vediamo se riesco a prendere quelli là sempre sperando che gli ottomani non saltino fuori con le loro nave ok no ho preso io i tunisini ma perché staranno aspettando gli ottomani invece un cazzo tra l'altro mi era uscito mica un bellissimo evento dove mi avevano dato 600 monete ma voi ci credete che io ho tutta sta sfiga una volta che mi era andato bene e invece guarda qua invece qua vuoi prestigio no non lo voglio il titolo è prestigio a me che cazzo me ne frega del prestigio torniamo a casa Alessi anzi finiamo fuori i Giampaoli e adesso l'MLM visto che mi sembra di avere visione torniamo un attimino qua sperando di non incrociare gli ottomani che tra l'altro non so dove sono a questo punto dove saranno gli ottomani vedete sto giro è dato tutto in maniera differente perché è la prima volta che ho registrato i veneziani erano saltati qua dentro avevano fatto brutto avevano preso un pochino tutto quello che si poteva prendere qua invece non li ho ancora visti nessuno sono qua in alto e qua ci sono 21k di ottomani che fanno i furbi se io adesso no no adesso non ci scappi poi a un certo punto nell'altra giocata vi racconto tutto chi hanno detto ma noi neanche abbiamo più voglia di fare la guerra quindi attaccati al cazzo Brad e adesso sai cosa dico io adesso li chiamo buono buona fortuna ragazzi adesso che li avete fatti entrare sono cazzi vostri col tizio lì in mezzo il forte è lì a Bessabria io non ho problemi scommetto che gli austriaci non li fanno passare quel che succede succede io cosa vi devo dire è colpa mia è colpa mia se li hai una merda no non è colpa mia chiaramente non è colpa mia porca puttana tu guarda te se io devo diventarsi matto adesso culano indietro perché però c'è un sacco di gente là grazie al cazzo grazie al cazzo ignoranti vigliacchi bifidi e schifidi quindi adesso è totalmente differente in verità non è andata in questa maniera qua non so cosa aspettarmi ci sono loro lì che bloccano i polacchi bravi bloccate i polacchi io vi consiglio di entrargli in casa e mangiargli le nonne a sti debocciati polacchi io caro gli danno il passaggio voi spiegate guardatemi che l'intelligenza l'intelligenza di andare a dare il passaggio al nemico cioè devi essere proprio un coglione chiunque abbia programmato una roba del genere deve essere per forza un coglione cioè non lo so posso vedere le relazioni che hanno i polacchi con gli ottomani cioè ce li hanno come rivali e gli hanno dato il passaggio manco dire non ce li ha come rivali quindi lo vedo no no io giuro coglioni posso? basta non c'è niente da dire adesso sediamo e andiamo avanti lea continua a darmi questi vibes di creatura molto intelligente come potete notare 11 delle sue navi stanno venendo annientate e che cazzo fanno i veneziani un bel niente volevo andare a dare una mano ma ho appena capito che farò una fine di merda se non sto attento quindi mi ritiro adesso cosa fate? scusate si giover di solo per l'amor di dio grazie almeno quello è opposto adesso cosa faccio? vado avanti a occupare di qui tecnicamente dovrei andare avanti ok guardate gli veneziani sono usciti a sconfiggere i tunisi qui non so bene cosa succede a battle will begin here between venice e cosa? mi sa che loro stanno andando niente se vogliono fidare di noi vado mi fido anch'io buono finalmente strano 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 forse riusciamo a portarla a casa e smetto di insultare le madri di questi di questi uomini 67 navi contro 46 qualcuna la devono perdere per forza dove si ritireranno se si ritirano eh niente si ritirano di qua vabbò torno dietro anche io se si ritiravano di qui potevamo buttarle fuori di nuovo e schiacciarle prima della riparazione ma così non è stato quindi ci attacchiamo alle bolas almeno quella è andata qua i veneziani stanno andando per la kill sopra i tunisini erano in ritirata almeno vado ad immaginare io se posso tengo aperto il passaggio qua avanti dietro vedo che anche i polacchi sono entrati forse a sto giro riusciamo anche a fare qualcosina di meglio non ero arrivato nell'altra nell'altra prova a fare avere uno scontro diretto ah no guarda gli ottomani che sono finiti qua cazzarola dove ho le navi eh pure i lupi voi 33 andate non ero riuscito ad arrivare a uno scontro diretto con gli ottomani il 100% delle volte avevo fatto un paio di battaglie piccoli ce l'ho fatta anche da solo i veneziani vedete è buono quindi tecnicamente è fatta sotto il punto di vista navale questo già ci toglie un grosso peso e io spero dopo adesso ovviamente sono ancora bello cavallino verde spero di potermi prendere un po' tutto non è neanche alto il prezzo il problema che la guerra sta andando avanti da poco una volta preso quello lì almeno abbiamo ci siamo collegati a Costantinopoli non devo andare a fare avanti e indietro e possiamo un attimino giostrarcela così e se tutto va bene qui non ci sono ottomani nella prossima non dobbiamo neanche chiamare nessun altro adesso loro sono lì tutti belli contenti a fare i suoi giù in mezzo ai monti conanetti tant'è i polacchi trastano io non trasto molto ma voglio dare una mano quindi signori questa sarà la battaglia che le vinciamo oppure la perdiamo si entra dentro eh non vedo un cazzo ottomans la gente è stato ah è stato scoperto adesso la nostra gente Egan al Asia è la nostra gente oh 52 mila fanno veramente male hanno deciso però di ritirarsi e tecnicamente è stata una buona vittoria questa cosa pensavo sarebbe morta più gente invece sono ritirati apposta per non avere troppe troppe perdite eh il mio piano allora visto che le cose stanno andando meglio di prima è questo prendere adesso andiamo avanti un pochino non so quanto prendere quelle tre zone lì e rompergli il trattato di alleanza con Tunisi perché poi così almeno ci apre la strada a noi per Tunisi all'effettivo mi sono lamentato un po' proprio un cazzo cioè nel senso mi dà comunque fastidio perché venire dalle tre che sto registrando e sono le sei passate per riuscire a stai lì aspetta che se c'erano le robe cancella tutto rifai quindi mi gira il cazzo lo stesso ok c'è chiaro non sono felice della mia vita in questo momento e non so dove volevo arrivare però aspetterò ancora un attimino per vedere se riusciamo a ricevumare qualche punto e portare a casa anche qualcos'altro perché a un certo punto a me ha l'ho an offer for Ajam perché mi dovrebbe interessare una l'ho Ajams ci offre 70 ma vai a fare in culo che appena ho finito qua vengo a raidarti se ci arrivo Dio santissimo benedetto il colonialismo è nato guardate guardate proprio nel metro così della guerra nel cammin di nostra sito mi trovai in una sito oscura di cui la sito era smarrita buono per i nostri amici la sotto io invece voglio aspettare proprio gli ottomani che finisca giuro gliela cancello quella cazzo di flotta bravi bravi polacchi ancora una volta mi avete tolto la merda grandmaster un regalo dalla Serbia for me e pensare che volevo prendervi le regioni vicino per venire a chiapettarvi l'oro a Kosovo e mi hanno regalato i soldini invece ma il gioco denota che io ho gli euri non lo so se lo denota a questo punto comunque tant'è tant'è aspettiamo un attimino che le cose si mettano come si mettano vediamo che cazzo fanno io voglio evitare gli scontri perché secondo me se riusciamo riusciamo a fare già abbastanza punti così e so che i polacchi le prendono dagli ottomani ah l'hanno presa ok guardate no balls no entrano sono ritirati lo stesso gli ottomani coglioni perché la vincevano probabilmente beh direi che questa allora è la caduta definitiva a questo punto cerco di prendermi un bel po' di roba io di qua ho deciso di chiuderla così probabilmente qualcuno più esperto farebbe meglio sicuramente però un paio di battagli nostri le stanno perdendo certo è che là sopra stiamo recuperando quello che è però alla fin fine quello che voglio è qua mi prendo la costa 1 2 3 4 giusto per aumentare il mio naval force limit e 342 monete più le war reparation più il togliere a tunisi l'amicizia su facebook secondo me questo è un buon cazzo di risultato perché non lo so mi sembra mi sembra sufficiente quindi mando i domani 702.000 morti per noi 704.000 per loro non è che sia andata benissimo quanti soldi sono riuscito ad intascarmi tutta sta faccenda non lo so non so anche dove guardare praticamente però non tantissimi oh oh i Knights si espandono e finalmente abbiamo tagliato fuori i coglionazzi noi possiamo tornare a casa per quello che ne è e abbiamo le nostre belle navi in porto ovviamente corizzo immediato subito tutto e espanderò vediamo vediamo un attimino come sta andando qua no qua qua 19 di 21 ok e 40 su 33 me l'ha allargato forse quando sono core mi da mi da la situa adesso ripariamo e situiamo probabilmente adesso ragazzi farò ancora un giro a raidare dove è possibile Tunisi e Mamelucchi e poi boh non lo so forse chiamo giornale anzi la puntata finisce sicuramente non so se registro anche quella dopo oggi perché le emozioni sono già state sufficienti ho di nuovo le palle che toccano le caviglie ma questa è la mia vita su Europa Universalis un saluto alla prossima un saluto un saluto Grazie a tutti.